Celebrazione in occasione del 247esimo anniversario della Fondazione della Guardia di Finanza nella piazza d'armi della Caserma Zanzur, sede storica delle Fiamme Gialle Partenopee, presieduta dal Comandante Interregionale dell'Italia Meridionale, Generale di Corpo d'Armata, Ignazio Gibilaro. In ragione delle misure di contenimento emanate a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, la cerimonia si è svolta senza reparti in armi e con la partecipazione delle massime autorità locali, sempre nel rispetto della normativa anti-Covid, assicurando il mantenimento del prescritto distanziamento sociale. Dopo aver deposto una corona d'oro alla lapide in memoria del sacrificio dei finanzieri Ludovico Papini e Salvatore Spiri di Giozzi, barbaramente trucidati a Napoli dai nazi fascisti nel corso del secondo conflitto mondiale, è stata data lettura del messaggio augurale del Presidente della Repubblica e dell'ordine del giorno speciale del Comandante Regionale della Guardia di Finanza. A seguire, il Comandante Interregionale dell'Italia Meridionale ha pronunciato la sua allocuzione e, in conclusione, il Terzo Cappellano Militare Capo, Monsignor Gerardo Sangiovanni, ha recitato la preghiera del finanziere. La ricorrenza ha ricostruito comunque l'occasione per un bilancio delle attività condotte nell'anno 2020 nei settori costituenti la missione istituzionale del Corpo, quali la lotta all'illusione, allevazione fiscale, la repressione degli illeciti in materia di spesa pubblica, la tutela del mercato dei beni e dei servizi, di quello dei capitali e del contrasto alla criminalità organizzata, in particolare sotto il profilo patrimoniale. Il periodo di emergenza sanitaria ha inoltre impegnato i reparti del Corpo nel controllo del rispetto delle norme emanate dalle autorità governative per il contenimento e la diffusione del coronavirus e di ogni forma di insidiosa e di illecito commercio, con fini speculativi dei presidi medici non conformi alle normative vigenti. Questi i principali dati relativi all'attività di servizio svolte dalle fiamme gialle del Comando Provinciale di Napoli, retto dal generale di brigata Gabriele Failla. Nel corso del 2020 il Comando Provinciale di Napoli ha eseguito 106.378 controlli per assicurare il rispetto delle misure di contenimento, nonché 18.309 interventi ispettivi e 1.762 indagini per contrastare le infiltrazioni della criminalità economica organizzata nel tessuto economico e sociale. Un impegno a tutto campo, a tutela di famiglie, imprese in difficoltà e a sostegno delle prospettive di rilancio e di sviluppo del Paese. Interventi mirati e selettivi fondati sull'incrocio delle banche dati fiscali di polizia, sul controllo economico del territorio e sulle risultanze delle indagini di polizia giudiziaria e valutaria. Nel 2020 sono stati scoperti 66 vasori totali e 559 lavoratori in nero o irregolari. Sono state eseguite inoltre 224 indagini di polizia giudiziaria che hanno portato alla denuncia di 276 soggetti di cui tre arrestati. Il valore dei beni sequestrati per reati in materia di imposte dirette, IVA, è di 22 milioni di euro, mentre le proposte di sequestro, tuttora al vaglio delle autorità giudiziarie, ammontano a 55 milioni di euro. Nel contrasto agli illeciti doganali sono stati eseguiti 977 interventi finalizzati a ricostruire la filiera distributiva delle merci illecitamente introdotte sul territorio. Nel settore al contrasto al contrabbando di tabacchi lavorati esteri sono state sequestrate 31,6 tonnellate di sigarette illegali, 690 soggetti denunciati e 84 arrestati. I controlli e le indagini contro il gioco illegale ed irregolare hanno permesso di irrogare sanzioni per 65 mila euro, di denunciare 46 soggetti e scoprire un'agenzia clandestina. Tra i controlli in materia di prestazioni sociali agevolate il corpo ha realizzato uno specifico dispositivo operativo volta al contrasto dei fenomeni di illecita apprezzione del reddito di cittadinanza. Gli interventi, svolti in quest'ultimo ambito anche con il contributo dell'Inps, sono stati indirizzati in maniera puntuale e selettiva nei confronti delle posizioni connotate dei concreti elementi di rischio e hanno permesso di intercettare, in ambito provinciale, oltre 4,1 milioni di euro indebitamente percepiti e oltre un milione di euro di contributi richiesti e non ancora discossi. Oltre un milione di euro ammontano invece i sequestri operati nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili del reato di usura. In applicazione della normativa antimafia sono stati sottoposti ad accertamenti patrimoniali 480 soggetti, mentre i provvedimenti di sequestro e confisca hanno raggiunto complessivamente la quota di 90 milioni di euro. L'attività a tutela del mercato dei beni e dei servizi è stata volta a contrastare la contraffazione di marchi registrati, l'usurpazione di indicazione di origine e qualità delle merci. In tali ambiti i reparti operativi provinciali hanno effettuato 368 interventi e dato esecuzione a 50 deleghe delle autorità giudiziarie, sottoponendo a sequestro oltre 5,3 milioni di prodotti industriali contraffatti, con falsa identificazione, del made in Italy e non sicuri, nonché ingenti quantitativi di prodotti alimentari, recanti marchi industriali falsificati o indicazioni non veritiere. Sono stati segnalati alle procure della Repubblica 256 soggetti, 57 soggetti segnalati ai fini amministrativi. A seguito dell'emergenza epidemiologica, i finanzieri del comando provinciale di Napoli, unitamente alle altre forze di polizia, hanno assicurato l'attuazione delle misure di contenimento della pandemia, eseguendo 85.840 controlli, nei confronti di persone fisiche e 20.312 esercizi commerciali, che hanno consentito di sanzionare 2.509 soggetti e di denunciare alle autorità giudiziarie a vario titolo 564 responsabili.